La Commissione Tributaria Provinciale ha accolto il ricorso che l'apporto di Imperia S.p.A. aveva avanzato nel febbraio del 2014 contro la richiesta di oltre 140 milioni di euro avanzata dall'Agenzia delle Entrate, che si era basata su un'indagine che aveva visto l'ipotesi di un'emissione di false fatture da parte della società Acquamare alla stessa Porto di Imperia S.p.A., con la conseguente evasione di tributi. A fine 2014 il Tribunale di Roma aveva però assolto Acquamare e l'imprenditore romano Francesco Bellavista Caltagirone dall'accusa di aver emesso false fatture. Di conseguenza era venuta a cadere anche l'ipotesi di evasione dei tributi, ma ci sono voluti 4 anni perché il ricorso venisse accettato. Nel frattempo l'apporto di Imperia S.p.A. è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Imperia anche per colpa del presunto debito di oltre 140 milioni di euro verso il fisco. Proprio in merito al fallimento della Porto S.p.A. si attende ancora alla pronuncia della Cassazione, che in quel fallimento potrebbe annullare, così come in precedenza aveva già fatto la Corte di Appello di Genova. Insomma, la parola fine sulle complesse vicende del porto turistico imperiese è ancora lontana dal poter essere pronunciata. Grazie a tutti.